Ciao a tutti, sono all'aeroporto di Portland, pronto per tornare in Europa e questo videoblog per condividere con voi una consapevolezza che penso possa esservi utile. Questa mattina ero a fare colazione in un caffè a Portland, c'era la connessione internet, quindi stavo controllando Facebook, stavo controllando le mail e tutto. A un certo punto ho alzato la testa e ho cominciato a guardare fuori dalla finestra tutte le persone che passavano, le tipologie di persone, cosa facevano, di cosa avevano bisogno e tutto. Credo che una delle caratteristiche principali delle persone di successo sia l'abilità di capire gli altri, di capire i bisogni degli altri in modo da proporre qualcosa che possa aiutarli a soddisfare questi bisogni. Se però siamo costantemente con la testa sullo schermo del nostro cellulare, del nostro tablet, del nostro computer e non siamo mai questa benedetta testa per vedere com'è veramente il mondo, per capire come sono le persone, di che cosa hanno bisogno le persone, non potremo mai avere successo nella nostra vita in modo completo. Quindi, non dico tutto il giorno, però ogni tanto spegnete questo cellulare, disconnettetevi da Facebook, cominciate a guardare le persone fuori, cominciate ad ascoltarle per capire quello che vi stanno dicendo e non per rispondere a quello che vi stanno dicendo. Spero che questa consapevolezza possa essere utile a voi come è stata a me, la condivido volentieri, un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao ciao. Grazie.